Ragazzi, il bomber, che da questo punto di vista è il maestro indiscusso, mi ha detto che non ce la faccio con 200 kg. Io accetto volentieri la sfida del bomber, vai. Per fortuna che non ce la faccio! Per fortuna! Grande bomber! Testimonia! Ma è ginnastica o è un bar? Lo so. Comunque, il sunto è... Alla sera, leoni, alla mattina, di più! Enjoy! Enjoy! E...